Non sto subito... Stai intrati? Stai intrati? Ok. Stai molto male. Stai via, com'è dei 10 minuti? Non c'è dove è? Allì, Allì. Vediamo se si fa il tempo regola. Allora, all'accordo. Ciao. Per l'imbrano? Eh, l'imbrano si va a scanto la magno. Questa è la prontella che porta la magna. Un pochino di grado. Alla novembre, va. Che a me spacca, amici. Allora, io non sono sicuro. Non c'era l'ultimo. Non c'era l'ultimo. Non c'era l'ultimo. Non c'era l'ultimo. Guarda, tu infatti mi aspetta. Guarda. Guarda. Non c'era l'ultimo. Vai, amici! Guarda. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.